Oggi si celebra la Domenica della Parola, giornata istituita da Papa Francesco che per l'occasione consegnerà la Bibbia a 40 persone dopo la messa nella Basilica di San Pietro. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare la conoscenza della parola di Dio tra tutti i cristiani e rappresenta un ulteriore passo nel dialogo ecumenico. Infatti Papa Francesco ha stabilito che si celebra proprio nella terza domenica del tempo ordinario dell'anno liturgico che cade in prossimità della giornata di dialogo tra ebrei e cattolici e della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e non è ovviamente una mera coincidenza temporale. Allora buona domenica a tutti, buona domenica della parola di Dio anche in compagnia di Fuori Programma che comincerà subito dopo la sigla e sarà una puntata speciale dedicata alla figura di Monsignor Cesarano. Restate con noi. Non è né semplice né facile per me tentare di dire tutto quello che vorrei, ma soprattutto pescare nei tanti ricordi di vita che mi legano a Monsignor Cesarano. venuto a mancare il 19 dicembre 1969, alle prime luci dell'alba. Sono trascorsi 50 anni, ma adesso quasi mi commuovo. Io ero accanto al letto di Monsignor Cesarano Morente. Ero da un mese, un mese e mezzo, stato mandato dall'amministratore Monsignor Cunial a San Giovanni Rotondo e l'arcivescovo ebbe una specie di trombosi un paio di giorni prima, il 17. La notte, la mattina del 19, alle 3, sento suonare il campanello della casa che finalmente avevo trovato perché non c'era niente. Un infermiere dell'ospedale mi dice l'arcivescovo sta morendo e ti cerca. In 5 minuti, forse avevo la 500, corro in ospedale e l'arcivescovo era morente, ma non parlava più. Mi ha preso la mano e me la stringeva quasi a voler parlare. Poi noi conosciamo gli occhi vivacissimi di Monsignor Cesarano, che ti cercava e mi fissava e stringeva la mano. E' la prima volta che forse mi trovavo, una delle prime volte che mi trovavo accanto a un agonizzante. Ho incominciato a dire qualche preghiera così e lui che continuamente questa mano che me la straziava. Verso le 5 e mezzo, 6 meno un quarto, arriva Monsignor Cugnial, chiamato dalla direzione dell'ospedale, da Lucera, e ho appreso da lui, ho imparato da lui come si accompagna un agonizzante. Potete immaginare, conservo gelosamente, oggi per la prima volta forse dico qualcosa, nello scrigno della mia memoria, questi momenti vissuti accanto al padre del mio sacerdozio, che mi aveva accolto adolescente nel seminario Arcivescovile. In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Monsignor Cesarano, dedichiamo questa puntata di Fuori Programma a questa figura, importante testimone, importante e autentico testimone della fede. Così come ci ha ricordato Monsignor Domenico D'Ambrosio in questo primo stragio che abbiamo ascoltato, io do subito il benvenuto al direttore di Padre Pio TV, Stefano Campanella. Bentrovata Anna e bentrovati i nostri telespettatori. Grazie. Questa combinazione non è casuale del direttore in rapporto a Monsignor Cesarano, ma anche all'amicizia che lega te con Monsignor D'Ambrosio, che ha conosciuto Monsignor Cesarano. Sì, abbiamo avuto modo di scambiare un po' di notizie relative a Cesarano, Monsignor D'Ambrosio per quello che aveva potuto ottenere di prima mano attraverso le sue frequentazioni con Monsignor Cesarano e attraverso il suo percorso di seminarista prima e sacerdote poi nell'Arcidiocesi di Manfredonia. Io attraverso le sudate carte, per usare un'espressione non mia, perché avendo approfondito il periodo di vita di Padre Pio, che è coinciso con il pontificato di Papa Giovanni XXIII, ovviamente mi sono imbattuto necessariamente nella figura di Cesarano e quindi dai documenti emerge in maniera chiara il ruolo di Cesarano molto importante nella vita di Padre Pio e di conseguenza la sua grande onestà intellettuale che ha giovato molto nel chiarimento di alcune vicende relative a Padre Pio, soprattutto agli occhi della Santa Sede. Ecco, e su questo rapporto, su questa relazione tra Monsignor Cesarano e Padre Pio ci soffermeremo anche nella seconda parte. Intanto Monsignor D'Ambrosio ha ricordato che per lui è stato un padre, è stato ordinato da Monsignor Cesarano e ha un po' cambiato anche la diocesi, nel senso della cultura e nel senso sociale, più prettamente sociale. Cesarano era un uomo di idee molto aperte, era un uomo del sud, visto che era nato nel Salernitano, in un paese del Salernitano, ma era un uomo di grande esperienza perché aveva fatto la carriera diplomatica e prima di essere ordinato arcivescovo di Manfredonia era il segretario della delegazione apostolica ad Istanbul in Turchia, che era un crocevia di tante informazioni ed era anche un luogo strategico dal punto di vista anche geopolitico, oltre che dal punto di vista della propagazione della fede in un territorio certamente non a maggioranza cristiana. Quindi questa grande esperienza diplomatica di Monsignor Cesarano gli ha permesso di maturare anche una consapevolezza sul valore della cultura e dell'impegno concreto che poi ha trasferito nel suo ministero episcopale. Allora, in quella serata, il 19 dicembre scorso, in cui si è ricordata la figura di Monsignor Cesarano e la sua opera, erano presenti anche Antonio Tomaioli, che tu conosci bene, Alberto Cavallini, ovviamente Don Domenico D'Ambrosio e padre Franco Moscone, oltre all'autore di un libro che narra l'amicizia tra Monsignor Cesarano e il futuro Papa, Roncalli. In effetti, appunto, questa amicizia è molto lontana nel tempo. Alcuni autori erroneamente fanno risalire questa amicizia al periodo in cui Roncalli fu nominato delegato ad Istanbul in Turchia. In realtà così non è, perché Cesarano aveva già lasciato Istanbul per venire a Manfredonia quando Roncalli fu trasferito dalla Bulgaria alla Turchia. Dalle agende di Roncalli emerge come, negli anni della Bulgaria, per otto volte, lui si era recato ad Istanbul, le ragioni non sono note, probabilmente all'inizio per ragioni diplomatiche, poi ci è tornato anche per ragioni personali. E quindi in questi otto viaggi di Roncalli dalla Bulgaria alla Turchia è nata un'amicizia personale fra i due che erano quasi coetanei e un'amicizia che si evince in maniera chiara dal carteggio che prescinde poi dal problema Padre Pio che ho consultato presso l'archivio che è stato realizzato a Bologna su Giovanni XXIII. Un'amicizia tale che quando i due poi venivano in Italia, lasciando le rispettive sedi diplomatiche, li portava l'uno ad essere ospite della casa dell'altro e quindi ci sono accenni anche a come cucinava la madre dell'uno. Cioè quindi veramente si erano entrati in un clima di amicizia personale fra i due. Bene, noi ascoltiamo Alberto Cavallini che ci traccia un po' della figura di Monsignor Cesarano, l'abbiamo raccolta proprio quella sera, e in particolare sulle urgenze pastorali che in quel periodo erano insomma forti. Dunque un uomo, un sacerdote, un vescovo, un grande esempio del passato, un promotore di dialogo, un costruttore di pace, un ammirevole esempio di vita cristiana che oggi ci sprona a guardare al futuro e della nostra arcidiocesi e della nostra terra gargavica. Un vescovo, un uomo di grande cultura, perché ha promosso la cultura qui a Manfredonia e soprattutto un testimone della carità cristiana, perché durante il periodo bellico, durante l'occupazione durata per fortuna pochi giorni tedesca di Manfredonia, è riuscito a salvare ben 15 vite umane dalla fucilazione, servendosi, e adesso ho sentito la testimonianza di un vecchio insegnante di Don Viotto, un sacerdote che era qui presente a Manfredonia, era di Biella, era un salesiano che conosceva bene il tedesco e quindi ha fatto da interprete senza il quale forse il vescovo non avrebbe potuto, come dire, riuscire in questa sua impresa perché non conosceva il tedesco. E poi soprattutto la grande amicizia con Papa Roncalli, un'amicizia durata 40 anni, iniziata a Istanbul nella delegazione della Santa Sede, dove si sono conosciuti e continuata negli anni fino al pontificato e anche durante tutto il pontificato. Significativa per questo è stata la incoronazione della Madonna di Siponto nel 1955 da parte del Cardinale Roncalli e poi c'è una lettera che io ho pubblicato recentemente sull'ultimo numero di Voci e Volti, autografa di Papa Giovanni, che nell'ottantesimo compleanno scrive, e manda gli auguri in latino a questo vescovo, proprio di suo pugno, ed è una testimonianza molto bella. Comunque un autentico e grande testimone della fede. Ci troviamo a cavallo fra le due guerre. Cesarano è stato nominato arcivescovo di Manfredonia nel 1931, quindi in un periodo in cui l'Italia stava cercando di ricostruire il proprio tessuto economico e sociale devastato dalla disfatta della Prima Guerra Mondiale e in questo contesto chiaramente di crisi c'era stato l'avvento del fascismo e proprio nel 1931 la Chiesa viveva un momento di difficoltà di dialogo con lo Stato italiano, col partito fascista, perché Mussolini malvedeva questo competitor, quale era la Chiesa, soprattutto nell'educazione del mondo giovanile. Era il periodo in cui il Duce voleva ridimensionare il ruolo dell'azione cattolica, soprattutto del ramo giovanile dell'azione cattolica e quindi cominciarono a nascere i primi contrasti fra Pio XI e il regime dopo un avvio che sembrava promettente di dialogo che era stato concretizzato con i patti lateranensi del 1929. Quindi in questo contesto di clima non sereno fra chi si è stato, Cesarano lascia la Turchia e rientra nella sua Italia e viene a fare il vescovo di una zona del Mezzogiorno che lui non conosceva ma che comunque faceva parte di un tessuto, quello medidionale che lui conosceva bene. Che non conosceva e che poi ha amato tantissimo. Ci fermiamo qualche istante e poi ritorniamo a parlare di Monsignor Cesarano.